Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo vlog, primissimo vlog. Allora, cari lati, cari 13 iscritti, sono emozionato, grazie, mila a tutti. Allora, di questo video ci sarà la seconda parte, però spolliciate, arriviamo a 100.000 mi piace e a 2.000 iscritti che faremo uno speciale su YouTube, il live incredibile. State aggiornati, seconda parte, spolliciate, iscrivetevi, bella. Ok raga, sono senza maschera, bella.